Un Franco Iachini arrabbiato, minaccia di agire le vie legali con il Comune, si ferma con il PEF e mette anche in vendita la concessione dello stadio, che succede? No, non sono arrabbiato, sono assolutamente stanco, stanco di questo immobilismo, di questa incapacità di governare da parte di questa amministrazione, non è in grado di fare, naturalmente non saprò già quali saranno le risposte da parte del sindaco, dell'amministrazione, che i tempi dell'amministrazione non sono quelli di un imprenditore privato, va bene, tutto quello che è, però l'imprenditore privato non sono neanche questi tempi, io penso di aver sopportato ulteriormente quello che era nella naturale logica delle cose, perché aspettare due anni, due anni e mezzo per arrivare al compimento di un progetto a cui il sindaco mi aveva chiamato dallo scorso maggio 2019, perché voglio ricordare che io qui sono stato chiamato in primis dal sindaco, dal primo cittadino, a dare una mano alla squadra di calcio e allo stadio, perché queste cose non bisogna ricordarsi, non è che Giacchini si è alzato la mattina, mi voglio mettere a fare questo e questo, no, mi hanno chiamato per dare un contributo, l'ho dato volentieri, ho speso tanti dei soldi personali della mia famiglia, però ho visto che queste cose alla fine non sono servite a nulla, quindi a questo punto io purtroppo dalle promesse fatte mi guardo bene e naturalmente tireremo in barca e vado a fare altre cose, quindi per me è sicuramente una chiara dimostrazione in capacità di governare, o almeno all'apparenza sembra così, poi dopo se ci sono affini reconditi non lo so, quindi per me basta, lascio lo stadio, lascio il PEF, faremo valere i nostri diritti, se ci sono dei diritti a far valere. C'è comunque in generale, lei ha denunciato una sorta di mobilismo di tutta la giunta comunale, ma anche del Consiglio? Assolutamente sì, perché se non si guarda al bene della cosa comune, e in questo caso lo stadio, torno a dire, è una cosa della città di Teramo, io sono un gestore che lo prende, investe e ne ricava un'attività, ma quella cosa comune è per la città di Teramo un bene importante, dove si crea lavoro, si crea sviluppo e si crea attrattività. Se non siamo in grado di poter capire queste cose, purtroppo vuol dire che c'è un'amministrazione cieca che non guarda al di là del proprio naso e non vorrei essere troppo pesante, però per me è incompetente.